Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini dice a Enrico Letta che si vergognerà ad andare in giro per Siena. Andiamo a vedere esattamente di che cosa si tratta. A Roma siamo davanti, dice Salvini, e siamo in testa anche a Torino, una città dove ha sempre vinto il centro-sinistra, e poi c'è Siena dove il PD ha distrutto una banca con quei sei secoli di storia. Io fossi Letta, in Letta mi preoccuperei. Ha detto che se perde si ritira. Attenzione, c'è quel precedente di Renzi legato al referendum del 2016. Non è che la frase porti proprio Fortuna. Di solito quando un politico dice una cosa dovrebbe mantenere la parola, vero Salvini? Tu lo sai bene questo, quando uno dice una cosa è quella. Se Letta dice se io perdo me ne vado, Letta dovrebbe andarsene, giusto? Renzi non l'ha fatto, è ancora lì, Italia viva, e anche Letta dovrebbe mantenere. Naturalmente Letta ha fatto un grandissimo sbaglio. Ha fatto un grande sbaglio nel dire questo, perché l'ha messa su una questione diversa. Letta, a Siena, nel concorrere per questo posto, diventa un Letta vince o Letta se ne va. Capite che il grande errore di Letta, lui grande capo politico, manco le basi, è un errore che ha fatto anche qualcun altro. Letta facendo così a Siena sposta la questione su Letta sì, Letta no. Poteva passare tutto in sordina, invece lui dicendo così potrebbe svegliare tutti quelli a Siena, di centrodestra, ad andare a votare compatti per far perdere Letta. Quindi se la gente neanche sapeva di questa storia, adesso tutti dicono Letta se vince bene, se no va a casa, lascia il PD. Il popolo di centrodestra che può andare a votare a Siena dirà Caspiterina certo che vado a votare qualunque altro candidato proprio per far andare a casa Letta, creare un terremoto nel PD. Lo stesso errore è stato fatto da Salvini in Emilia-Romagna, quando mettendo in ombra il candidato della Lega era diventata un referendum su Salvini, Salvini sì, Salvini no. E passò Bonaccini, perché tutti, anche quelli che non potevano andare a votare, passarono i pulmini della CGL, dei sindacati, del Comune, a portare le persone che avevano difficoltà ad andare al seggio tutti a votare perché era diventato un referendum su Salvini. Magari la Lega avrebbe anche vinto, ma era diventato un referendum Salvini-Bonaccini, cioè Salvini sì, Salvini no. Qui a Siena che cosa sta diventando? Sta diventando un referendum sta diventando un referendum su Letta. Letta sì, Letta no. Non è propriamente una genialata. Potrebbe costargli caro a Letta questa sua sovraesposizione dicendo... e lo continua a ripetere. Cioè, allora, l'ha detto la prima volta, beh, qualcuno gliel'avrà fatto notare, mi dice, zitto, non dire ste robe qua perché poi ti mandano a casa. Pertanto l'ha ripetuto anche oggi, l'ha ripetuto anche oggi e dicendo proprio... dicendo proprio... se non vinco lascio... decoccio, decoccio. Sbagli ma non impari dagli sbagli. Ecco, sbagliare è umano. Io l'ho sempre detto anche quando ero direttore nelle aziende. Ragazzi, ragazze, chi lavora sbaglia. Chi non lavora non sbaglia mai perché non fa niente, non prende posizioni. Quindi chi cerca delle soluzioni può sbagliare, ma chi non fa nulla non può sbagliare. Ecco, possiamo dire Letta lavorando sbaglia, ma, insomma, hai sbagliato la prima volta a dire se me ne vado, se me ne vado, cioè se perdo me ne vado, ti hanno fatto capire in tanti hai sbagliato e lui lo ridice ancora. Significa che io credo che queste persone, i capi politici, non abbiano l'umiltà di ascoltare gli altri. Cioè non ascoltano, non ascoltano gli altri nel senso che si sentono superiori. Loro dicono io non sbaglio mai. E un po' quando avevano fatto notare a Salvini la citofonata Bologna, insomma, lei lo rifarebbe? Lui certo che la rifarei. Insomma, la citofonata di Bologna ha cominciato a segnare il declino. La citofonata, i rosari in giro. Ecco, quando i tuoi uomini, la cerchia ristretta, ti comincia a far capire, eh, insomma, no? E tu, presuntuoso, io sono il capo, il leader, carismatico, ti dicono ma, citofonata, io lo rifarei. Ah, scusa, scusa, allora non ti preoccupare. Perché quando gli uomini di fiducia di Letta e di Salvini gli fanno capire, perché in qualche modo glielo fanno capire, no? Guarda, e questi insistono, io ho fatto bene con quel io sono, io ho fatto bene, anche quelli amici, gli stretti consiglieri cominciano a dire, beh, io gliel'ho detto, adesso faccia quello che vuole. Prendono le distanze. Così Matteo Salvini questa volta dice, io se fossi in Letta mi preoccuperei. Ha detto che se perde si ritira, attenzione, c'è quel precedente di Renzi, ecco, e poi su quello che sta succedendo a Siena, ecco, su quello che sta succedendo a Siena, ma questo lo andiamo a vedere nel prossimo video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Siamo Teleitalia su Facebook e Teleitalia Seconda Rete. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti sempre qui su questo canale. Arrivederci a tutti.